Siamo nel parco di Boavista dove è ospitata la fiera vocazionale decine e decine, centinaia di stand, migliaia di giovani e pellegrini. Affolano questi stand delle associazioni, dei movimenti ecclesiali per chiedere informazioni, avere ragguagli sulle attività soprattutto missionari e di evangelizzazione di questi movimenti. Migliaia e migliaia di giovani si sono riversati qui dove il Papa da poco ha confessato cinque giovani, accolto da un tripudio di gente, di festa, festa che continua adesso nei viali di questo parco fino a stasera all'ora della Via Crucis.